Punteggio a parte, con il nuovo setto tattico, il nuovo schieramento, si sono visti dei miglioramenti dal punto di vista della manovra. Cosa valutare positivamente e negativamente di questo match secondo lei? Di negativo non c'è assolutamente nulla. Siamo arrivati in emergenza, avevamo solo due centrali, quindi abbiamo dovuto giocare con Cascione dietro. Alla fine abbiamo perso anche Cascione, quindi è normale che quando sei in emergenza qualcosa non quadra. Però la scuola ha detto benissimo, nel primo tempo abbiamo giocato una porta sola, non devo rimpoverare nulla. L'unica cosa che posso rimpoverare è che dovevamo chiudere la partita al primo tempo, tutto qui. Che sia il primo che il secondo tempo la scuola ha fatto la partita che doveva fare. I ragazzi oggi sono stati perfetti. A parte, non voglio parlare dell'arbitraggio perché tanto si è visto, quindi lasciamo perdere. Se la mentalità è questa e continuiamo con questa mentalità ci possiamo salvare tranquillamente. Perché ho visto una squadra concentrata, attenta, sempre in anticipo, sempre vicino alla palla. Insomma, è stata una prestazione importante. Grazie a tutti.